Una gara stupenda da subito, siamo partiti fortissimo, a metà abbiamo mantenuto con grinta nonostante abbiano tentato di prenderci e alla fine nonostante comunque fossimo agli sgoccioli con le focce abbiamo dato più del 100% e non ce n'è stata per nessuno. Niccolò, un Varesino che vince a Varese facendo il record del mondo, cosa significa? Un sogno e anche una responsabilità, comunque tutti i miei compagni e amici sono qui e mi hanno seguito e ne sono molto contento. La dedica? La dedico soprattutto alla mia famiglia che c'è sempre, nonostante ogni tanto non sia facile e dedico anche a Claudio Romagnoli che è stato il mio allenatore quest'anno e mi ha veramente cambiato tutto e dedico anche questa vittoria a Gabriele Martrinato che mi ha seguito fino alla fine del 2021 quasi e che poi ha dato il testimone a Claudio. Grazie.